Buonasera, buonasera e bentornati. Su TCS Telecosta Smeralda, il magazine, primi tre servizi che abbiamo cercato di sintetizzare nella Sardegna bella ma non troppo, Sardegna che piace, Sardegna cara. Cominciamo dai rincari. Prudenza e risparmio, parola d'ordine, di una stagione quella turistica in Sardegna, la nostra, all'insegna delle contraddizioni, dei paradossi. Da una parte un volume di traffico passeggeri, Cagliari e il suo aeroporto fanno il botto a maggio e giugno, vanno bene anche gli altri scali, Alghero e Olbia. Dall'altra i rincari e una reputazione di un'isola bella ma troppo cara. E qui rientrano le prime due parole usate per cominciare l'analisi. Risparmio, quindi. Una necessità dettata in gran parte dalla scarsa disponibilità economica ma anche dai costi sempre più proibitivi. Con l'avvicinarsi di agosto, infatti, non assistiamo solo a un surriscaldamento delle temperature ma anche a un progressivo incremento dei prezzi. L'ONF, l'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori, ha messo il suo circoletto rosso, prima di tutto, sui trasporti, che aumentano. Mediamente del più 14% a subire il rincaro maggiore sono i costi dei viaggi di medio-lunga percorrenza in auto, ovvero 200 km a tratta, che registrano una variazione del più 20% rispetto al 2023. Curioso. A questi aggiungiamo i costi dei servizi, gli hotel in testa, con un più 17%. Non se la passano meglio i prezzi, anzi l'aumento degli stabilimenti balneari, più 5,2%, anche quelli per una vacanza al mare, che registra rincari del 10%. Insomma, se secondo le nostre stime quest'anno il 41,3% degli italiani andrà in vacanza, più 2,3% rispetto allo scorso anno, e di questi tempi il 52,7% opterà per un soggiorno ridotto, 3-5 giorni, cercando soluzioni per contenere le spese come l'ospitalità presso amici e parenti. E infine, oltre l'80% degli italiani rimarrà nei confini nazionali. Le vacanze, in un titolo riassuntivo, saranno all'insegna della prudenza e del risparmio. Intanto Alghero, Alghero continua a sorprendere, diventa quella porta d'accesso, non solo per la sua comunità, ma anche per tutto il nord Sardegna. Giugno 24 è andato bene, molto bene. La difficoltà è confermarsi, in testa, Alghero ci riesce pure bene, ribadisce, la sua leadership tra le mete preferite scelte e volute dai turisti. Luogo, quello dei bastioni, che traina e che, a tutti gli effetti, è diventato il ponte del settentrione dell'isola. Ma non c'è solo Alghero nella testa dei vacanzieri. Di tutto il mondo c'è, e ci sarà per questa stagione, il flusso di turisti, stranieri in testa, votati al nord Sardegna. E allora cominciamo. A giugno 24 i numeri degli arrivi e gli indici di riempimento dei posti letto e delle camere sono in crescita rispetto all'anno precedente. L'analisi del campione delle strutture attive a Stintino, Castelsardo, Valledoria, Porto Torres, Alghero, Sorso, Sassari e aree interne certifica che gli arrivi sono stati 24.329, di cui 9.666 nazionali e 14.663 internazionali. E ancora, l'indice di riempimento dei posti letto tocca il ragguardevole obiettivo di 64,53% contro il 53,79% dello stesso mese del 2023. Mentre l'indice delle camere ha toccato quota 72,82%, staccando l'omologo dato dell'anno precedente, fermo al 62,23%. Un rapporto, quello sui dati redatto dalla Federalberghi Commercio Provinciale di Sassari, ottenuto consultando e incrociando un campione del 35% di tutte le strutture recettive alberghiere della provincia. Da qui il titolo. Alghero si conferma meta regina delle vacanze del nord dell'isola. Con l'indice di riempimento camere, che è sopra la media provinciale, che fissa l'asticella al 74,65% contro il 67,78% dello stesso mese del 2023. E ancora, l'indice di riempimento letti si attesta al 67,69% contro il 61,86% di giugno 2023. Altro dato positivo nel Golfo dell'Asinara. L'indice si attesta al 68,40% contro il 53,41% del giugno 2023. Insomma, il mese di giugno, già timicamente estivo, drena presenze turistiche attratte dalle bellezze ambientali e dal fascino delle nostre coste, senza congestionare le località beneficiate dal fenomeno turistico, che viceversa vedono crescere la capacità delle imprese di filiera di generale reddito. Sostiene, soddisfatto, il presidente Federalberghi Commercio Provincia di Sassari, Stefano Visconti. Già giugno eppure maggio. Quest'anno hanno già messo in cascina un'ottima performance a livello di turismo attivo. Intanto Cagliari, il suo aeroporto, secondo la piattaforma iHelp, si considera e si conferma come miglior aeroporto d'Italia. Puntualità dei voli, qualità dei servizi e offerta commerciale. Sono questi i tre fattori che permettono a Cagliari di piazzarsi in cima alla classifica di tutti gli aeroporti italiani nel 2024. La graduatoria è di AirHelp, azienda internazionale impegnata nel fornire assistenza ai passeggeri di voli che hanno subito cancellazioni, ritardi o sovra-prenotazioni su tratte europee o extra-europee. Per stilare la classifica, AirHelp Score 2024, sono stati presi in considerazione 239 aeroporti in 69 paesi diversi, osservati nel periodo che va dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2024. Ad incidere maggiormente nella classifica è la puntualità dei voli, che nel punteggio generale pesa il 60%. La qualità del servizio e l'offerta commerciale degli scali in termini di cibo e negozi contano invece il 20% ognuno e sono stati rilevati in base all'opinione dei viaggiatori. Secondo AirHelp, i migliori aeroporti al mondo sono quelli di Doha in Qatar, primo con un punteggio di 8,52 su 10, Città del Capo in Sudafrica, secondo con 8,50, e il Chubu Central Airport di Nagoya in Giappone, terzo con 8,49. Nella classifica generale, Cagliari si posiziona al 60esimo posto, davanti comunque ad aeroporti importanti come Dubai, London City e Barcellona. Prat, in Italia lo scalo di Elmas è invece primo con una valutazione media di 7,87 su 10, davanti a Roma Ciampino, secondo con un punteggio di 7,78, e Treviso Sant'Angelo, terzo con 7,66. L'aeroporto di Cagliari, nello specifico, vanta un punteggio di 8,2 per quanto riguarda la categoria di cibo e negozi, 8 per l'opinione dei clienti e 7,7 per la puntualità dei voli. Pensate al potere evocativo, ma soprattutto di promozione del territorio, di una serie televisiva, pensate a un film, pensate alla Sardegna, quante volte abbiamo raccontato questo tema, adesso c'è anche una mostra con i manifesti storici, si direbbe vintage, che richiamano anche questo tema della valorizzazione della nostra isola. Scoprire la cultura e le tradizioni della Sardegna attraverso il cinema e viceversa. La collezione Senis permette di vivere un autentico viaggio indietro nel tempo, per immergersi negli spazi del Cinema Olimpia, il primo cinematografo di San Gavino. Un viaggio che sarà possibile fare fino al 31 agosto al Centro Comunale d'Arte Exma di Cagliari, con la mostra dedicata ai manifesti cinematografici di Giorgio Senis, nipote di Silvio Senis, che aprì nel 1928 il cinema. In questa esposizione qua si potranno vedere dei manifesti, che è una piccola parte della collezione del Cinema Olimpia, che è stata trasportata qua per l'occasione, per fare questa mostra, per la promozione del progetto che abbiamo anche per San Gavino, per la ristrutturazione del cinema che diventerà, spero, un museo prima o poi. La storia del Cinema Olimpia inizia nel 1928, quando l'imprenditore agricolo Silvio Senis intuisce le potenzialità del cinema come risorsa economica alternativa, e decide di aprirne uno, il primo di San Gavino, nel cortile della propria casa campidanese. Un cinema all'aperto che in un cinquantennio vive le molteplici dinamiche del Novecento, diventando un fondamentale luogo d'incontro e socializzazione per tutta la comunità locale. Oggi restano i preziosi manifesti, e non solo, che testimoniano l'attività del Cinema Senis, e rappresentano una raccolta storico-artistica di valore. La collezione di Giorgio Senis ha un grandissimo valore storico-artistico, riconosciuto poi anche dalla soprintendenza, che non riguarda più solo il territorio di San Gavino, ma riguarda tutta la regione, riguarda tutti noi, perché ci racconta non solo un pezzo di storia del cinema, è un pezzo importante anche della storia dell'illustrazione nel cinema, ma ci racconta anche una parte della comunità, è una testimonianza materiale della memoria collettiva di una regione intera. Cagliari è stata scelta per ospitare la mostra perché? Mi è stata chiesta, prima di tutto, e io l'ho sposata immediatamente, perché secondo me Cagliari è un'utenza non indifferente rispetto a San Gavino. A Cagliari già c'è tanta gente, però il turismo è importante adesso, magari anche con le navi da crociere. L'Exma e i manifesti cinematografici della collezione Senis aspettano quindi anche i tanti turisti che scelgono sempre più Cagliari come città di destinazione per le proprie vacanze e non più di passaggio. Ci aspettiamo molti turisti a questa mostra perché appunto è una mostra che è partendo dal particolare, quindi da un piccolo territorio, racconta un grande territorio, ma poi racconta un piccolo pezzo di storia del cinema e di storia del mondo del cinema che sicuramente interesserà anche i turisti. Ad accompagnare la mostra ci saranno anche le proiezioni di un ciclo di film che arricchiranno un percorso che attraverso il cinema farà rivivere anche la Sardegna di una volta e darà un'opportunità in più per trascorrere a Cagliari una serata diversa, un'occasione per poter apprezzare una mostra che racconta il cinema, il territorio e la comunità. Dal particolare all'universale, lo analizzava un filosofo greco, pensate a una piccola comunità e c'è un'eccellenza che la racconta. La cipolla diventa occasione per puntare l'attenzione su una piccola comunità come quella di Banari, immersa nel Meilogu, un luogo incantato della nostra isola. Partendo da questo semplice prodotto della natura, Banari si racconta tutto tondo con una manifestazione che abbraccia le no gastronomie, la storia e l'arte. L'appuntamento con la sagra della cipolla dorata e per il 20-21 luglio, l'iniziativa è organizzata dalla Proloco in collaborazione con il comune di Banari e con il patrocinio della regione Sardegna e rientra nel circuito Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari. Tra gli eventi la presentazione di libri, i laboratori del gusto, le degustazioni, un allestimento artistico degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Sassari, l'esibizione del coro su Concordu Banaresu. La nostra non vuole essere solo una sagra enogastronomica, ma un evento culturale. Infatti, proprio per questo, spaziamo su varie tematiche, perché dall'arte allo sport, eccetera, alla letteratura, insomma, su tutti gli ambiti. Quest'anno il premio verrà dato a un altro personaggio molto importante, che ha portato alto il nome della Sardegna nel mondo, ed è Gianfranco Zola. Quindi, come dicevo, è una manifestazione culturale a tutto tondo. Poi, ovviamente, non mancheranno le degustazioni di piatti a base di cipolla. Un'altra cosa anche importante è la collaborazione che ci sarà durante questa sagra, perché avremo altre prolocco che danno una mano volontariamente, come volontari sono tutti i soci dell'associazione che, diciamo, ogni anno si impegnano per far sì che la manifestazione abbia successo. È una cipolla che ha una caratteristica importante, che è quella che cresce molto grande, quindi si sviluppa oltre il chilo anche. Una cipolla dorata, quindi una cipolla dolce, che cresce sì in tutto il nostro territorio, ma che ha delle peculiarità proprio nel territorio di Banari. Non si può ridurre la sagra soltanto alla cipolla di Banari. Quello deve essere il punto di partenza, ma un'associazione come la Prolocco ha l'opportunità, in questo caso, di promuovere l'intero territorio. Gli artisti del paese, con escursioni, si va a far conoscere il territorio, quindi per forza bisogna andare in questa direzione. Bene, termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie. Grazie.